Anziani, chiediamo a voi scienziati di tutta Italia e soprattutto di tutta Europa quello di condividere un percorso comune da presentare esattamente alle 5, alle più alte cariche delle nostre istituzioni europee, partendo dal Presidente del Parlamento Europeo e dai tre responsabili dei tre gruppi parlamentari più grandi che sottoscriveranno una mozione che diventerà entro il mese di aprile una risoluzione e che farà arrivare il comune messaggio dell'istituzione di una giornata europea per l'aderenza alla terapia. La mia sintesi è quello che siamo di fronte a 200.000 morti l'anno, costi per i nostri stati che vanno da 85 a 125 miliardi di euro e credo che abbiamo bisogno di dare una mano. È una comunità scientifica che si incontra, quindi io già mi taccio immediatamente, anche perché il problema delle differenze dell'aderenza alla terapia tra una branca specialistica e un'altra sono comunque comuni, anche se tutti si attestano al 50%. Lascio direttamente la parola al Presidente del nostro Comitato Scientifico Europeo, il Professor Mirone. Ok, thank you very much, Roberto. This is a very important afternoon for SIHA. We have a lot of, about 15 different presentations from different fields of our medical sectors. Then no more than 3, 4, 5 minutes per each, because we have to finish at 4.30 pm. Then we have to translate in other floor in this excellent, beautiful location of our European Union. I can begin with my talk where we can focus the definition of adherence treatment. You have your books in your hands, then we can follow me in the different passage, if you want. We can distribute all the books. The first point is the sense and the meaning of adherence. Then this process has four different steps. The first is initiation, then the first dose. The second is implementation, where we extend to the patient the real dosing. The third is discontinuation, when of course that patient stops taking by himself the administration of the drug. And the fourth is persistence in the length of time in between initiation and last dosing. If we go to the other slides, we can understand better the definition of adherence to treatment. The first point, when we have poor adherence, is the reducing efficacy. It's normal that if we have less adherence, we have less efficacy. And the second point can be the very high risk of hospitalization. And this in our health organization means more money, more expenses for our European countries. If we go to the real life in therapy in the European Union, we can see that today the 50% in over 65, then one out of two, is absolutely effective of comorbidity. And then about 40% of aged over 65 consume between 5 and 9 pills. This is a very important, very relevant number of pills. And then it's difficult to administrate in men over 65 or 70 or 80 the real distribution of this impressive number of pills. For this type, I think it's necessary to underline two different focus points. When diminishes the adherence of therapy and when we increase the number of drugs, 79 patients are absolutely once a day dose, but only 51, only one out of two, suppose they take four doses themselves. Then it's very impressive, this type of delicate point. In non-adherence therapy, this estimation costs one point billions of euros. This is a very impressive cost for our hospitals, for our health ministers in different European countries. These data are absolutely clear. It's necessary to assess the patients for intervention, to increase the adherence and then the healthcare outcomes. If we go to the next slides, in page 55, we have my personal book. 55, correct. Then I can go back to 55 and then we can translate this type of situation. We can see that in page 55, the increased number of hospitalization in comparison with the western coast. Then that means that we have more expenses in hospitalization and more drugs effective. Then it's absolutely clear this type of point. Going to 56, we can see where this type of escalate in decreasing because if we have prescribed drug, we have 100% page 56 in green. Then we have the 12% less if we go to acquired drug. When then the patient stops from the general partition of the specialist that goes to the pharmacy, we have already immediately the 12% less. And if we go to higher drug, we have other 12% less of administration. And if we go to continuation of the drug, we have the 50, 50, 50% less. That's absolutely traumatic for the organization. In non-adherence factors, we can go, for example, the most important disease is hypertension. And when we talk about hypertension, it's absolutely clear that we can have the difficulties to persist in therapy for patients. And the more the risk of the bursar band decreases if we have obviously adherence to the therapy. Both in the coronary and cerebrovascular outcomes. And we can see, for example, in next slide, page 57. In hypertension, recent retrospective evaluation have shown the starting the treatment with the combination of therapies. And in hypertension, it's absolutely clear that generally speaking, we have synergies between drugs. And then we have reason and consequences. In reasons, the patient tend to underestimate the risk of reduced adherence. This is a personal perception from the major part of the patients. And GPs tend to not monitor adherence. This is very important because the counseling is very, very strategic point in this type of correlation between GP and patients. And third, the pharmacists lean back to be just drug dispensers. Consequences are absolutely clear. What? Poor adherence can negatively affect cardio and cerebrovascular outcome. And non-adherence negatively affects healthcare costs. Going to another very important discipline as urology, if we put together the five more important fields, page 58, prostate disease, incontinence, stones, impotence, cancer, prostate. We can see that in the European Union, 74 million of men, more than 50 years old in different 19 countries. We have 12 million boxes per year. It's a very impressive number of patients treated. And we can show in the next slides that Portugal is the most important country where we use drugs in LATS, in BPH. In epidemiology, this generates 1.1 billion dollar symmetric cost. Then it's very impressive cost for the countries, for European countries. The same is for incontinence, it's the other side of gender identity, is the boom. Then in women, we have a very important cost for incontinence, and this is spent in other, not drugs, but in all the device to protect the incontinence in women. And we have a lot of drugs as anti-musculinic therapy, so and so. Then the first message that we can have today in this very important location, especially politically understanding, we haven't a real comprehensive review. We have a real deficiency of strategic and solid scientific papers. We haven't, not very important papers dedicated to adherence. And then today, we can say at the end of the day, that we have poor adherence to therapeutic regimen, as been identified today, as a major public health problem. But this is the real major problem in the cost of the health in the European Union. And then it's necessary to have a major impact on the clinic outcomes. Signor Italia Federanziani began three years ago with the ministry of, three years ago in Rimini, with Minister Lorenzin. This campaign in Italy dedicated to adherence to medication as fundamental prerequisite for the effectiveness and safety of treatments. And the conclusion of this very important congress in Rimini three years ago, we can stress that it's necessary to have more analysis in global prescription. It's necessary to understand that the median number of medications associated, for example in PPH, was then five other medications. And that's necessary to discuss about this type of different drugs used, for example in BPH. And 25% of patients take more than one, eight other medications. This is a very impressive number of the distribution of these different targets and these different pills. Then we have identified the role of the natural black box. What means black blocks? It means that it's necessary to have very clear in our mind in clinical guidelines. It's necessary to have the real attention for the general practitioners. It's important, fundamental point to have all parameters impacting guidelines application and real clinical practice. And we have created a very interesting algorithm or acronym as SAMPLE. What means SAMPLE? SAMPLE means S, simplified regimen characteristics. I, imparting knowledge. Modifying patient beliefs. I think in my personal view this is a more important point that we have to work together with politicians and with the alliance organization of the third sector. P, patient communication. The council is fundamental. It's necessary to increase the level of our students in the course of medicine in the beginning. L, leaving the bias, a lot of bias in this field. And final point E, evaluating adherence. I go to the final part of my presentation and then we have principles, five principles. A frank and open approach where we recognize the non-adherence as a norm, is the real life of our patients. Because this is the real life of our patients. The second principle is good communication, not only with the counselling between general practitioners and the patients, but as political issues and social political issues. The third is, should be supported by evidence-based. And then it's necessary to have database, to have number, day by day. Day by day. The fourth, establish what level of involvement in decision making the patient would like. And the final five point is, accept that patient has the right, in his personal view, to decide not to take medicine, even if you do not agree with the decision. Going to the final part, then we have to organize today. And the second part, with the meeting with our politicians, it's important to stress this point. Suggest that patients record their medicine taking. It's necessary to increase the technological level, up other methods where we can work together with the patients. Encouraging patients to monitor their condition. Third, simplify the dosing regimen between five and eight, nine, ten pills. Using alternative paging for the medicine, it's possible to change the colour and the characterisation of the box, and use a multi-compartimental medicine system. Then, patients should be active partners. And then, the final slide, I think is necessary to stress this point. The main difference is that adherence requires the patient's agreement to the recommendation. It is a very important challenge for our different sector of medicine. Thank you very much for your attention. Then, we go to the very important points, where we have different presentations. And then, it's an honour for me to invite Professor Agabi Tirosay to talk about the cardiology in the sense of the adherence therapy. Thank you. 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 What do you want? Okay. Good afternoon. Good. Yes. Yes. Although, three slides have not been printed correctly, but I have a copy. If you want, I can give the... That's okay for us. But, well, first of all, good afternoon, and thank you for inviting me. I understand that we don't have so long time, so I can shorten my presentation. Can I sit? Can I sit, President? Yes. Okay. Thank you. Thank you, sir. Because Professor Mironi has already given the general items that define adherence and how to overcome this big problem. I'm talking about hypertension. Why? Well, hypertension has a very high prevalence. more than 1 billion of people has blood pressure above 140 over 90 worldwide. And it accounts for 10 million of deaths every year and over 200 million of disability-adjusted life years. Most importantly, in the last 30 years, this number has increased by 40%. This is despite the fact that this is a field that represents one of the main success in biomedical research with a large number of drugs which are effective and well-tolerated. And despite this, hypertension is still number one factor causing death worldwide. This is seen in high-income countries as well as in the medium or low-income countries. And the main reason is the low adherence to treatment. So we have the possibility of treating adequately this condition, but we don't do this. And because of the high prevalence of hypertension, high blood pressure still is number one factor of death worldwide. So the factors, as I said, is a poor adherence to treatment together with doctor's inertia. That is a sort of lack of adherence of the doctor. The doctor is not adherence to the suggestions of guidelines. As well, the inappropriate use of treatments and the deficiency of the healthcare system. We know from several studies that patient's discontinued treatment is not adherent. Already after a few months from initiation of treatment, after one year, only 50% of patients is adherent to treatment. One major point is how to assess the adherence to treatment. This is not easy because it has been evaluated using questionnaire, but questionnaire does not give a precise picture of the situation. Questionnaires tend to increase the perception of adherence. Better could be pill counts, also using electronic monitoring. And, of course, directly observed treatment, but for lifelong treatment this is very difficult. Recently, the measurement of drugs in blood or urine has demonstrated that a lack of assumption of treatment is responsible of at least 50% of so-called resistant hypertension. Adherence is quite variable. There is a lot of fantasy for non-adherent patients. Going from permanent discontinuation to assumption totally irregular, the assumption during, no assumption during holidays, for instance, or the so-called white coat adherence. They take the pill only two days before going to the doctors. So it's difficult to assess this, and we have to take account about this problem. The database of the Lombardy region, Lombardy is a large region as you know, 10 million of habitants, have confirmed that patients discontinue treatment after one year in 50% of cases. And very importantly, those starting for the first time treatment have no new prescription for treatment after the first one. In other words, they take only once the pills advised by the doctor and then the prescription is not again formulated. So this waste of money, terrible waste of money, and we don't know if they don't take the pill because they don't need it or because they don't want to be treated. In hypertension, some drugs are better tolerated. Okay. Yes. And these are rust blockers, usually. And we have to take into account comorbidities. It has been already said that the more the number of pills to be taken, the less is the adherence. And certainly we have data demonstrating that in comparison with known adherence, those who are adherence have a clear reduction of cardiovascular events. How we can improve the drug adherence. This has been already suggested with very interesting and imaginative words, such as simple. And we have reported the advice of the very recent guidelines on hypertension. The European Society of Hypertension, which has been the president until one year ago, has also implemented an app in order to connect patients with their physicians and in order to provide educational material. Professor Parati, who had to be here, has launched this app together with our society and the Italian Society of Hypertension. So I can close here because I think you have already addressed the issue of how to try to overcome this big problem. Please, I would be very grateful if you can add the slides that have not been printed properly. Thank you very much. Thank you very much. Then we go to Italian Society of Dermatology, Professor Venturini. Please, and no more three, four minutes, I'm sorry. Thank you very much. Thank you for the invitation. It has worked. Sorry. It's okay, it's okay. Okay. Sorry. The... Sorry. No. The adherence to therapy in dermatology... Can you try? It's only for a camera. Okay. The adherence to therapy in dermatology is a very big problem because we have a lot of chronical skin disease. The principal disease are psoriasis and also atopic dermatitis. Psoriasis is a very frequent disease. about three percent of population are affected and the adherence to therapy is a big problem. Not only for a systemic therapy but also for all types of treatments such as topical, physical, surgery and cosmetics. And it's very important to put the focus on clinical severity of the disease. And we use usually some scorer such as a palsy or a palsy for psoriasis and a scorer for atopic dermatitis. It's very important to define the severity of the disease. The severity is important because you can try to decide the good therapy for the patient in a view of patient-centered therapy. And another point important is the patient reported outcomes. Because the patient report that their experience of disease and healthcare are particularly important for assessing the course of chronical skin disease. We use some questionnaires for assessing the quality of life of the patient. The more important and use it is the LQI. It is very important to assess the quality of life because the patient sometimes don't report this problem during the normal visit. And the other problem of adherence to therapy in dermatology are connected to some aspects such as employment, low prescription cost. And other factors are the female gender or being married because the wife can put the cream on the husband and so on. And the lower adherence is seen for patients with extensive disease and paradoxically on the face. And another problem is the cost, all you know. And in conclusion, it's very important to improve the adherence, improving patient knowledge and also doctor-patient relationship to improve the patient adherence. I'm finished. Thank you very much. Thank you very much. Now we go to Professor Tessa, President of the National Autonomous Trade Union of Italian Doctors. Angelo. I'm sorry. Short. Short. Very short. Good afternoon. So, we general practitioners in our job can see some more than special because we see old patients that have a lot of therapy. And poor adherence, we can say that the poor adherence to the doctor's prescription is the main cause of drug therapies and is associated with an increase in healthcare interventions, morbidity and mortality, representing damage to both patients and the healthcare system of the society. Greater adherence instead means less risk of hospitalization, less complications associated with disease, greater safety and efficacy of treatments and reduction of cost for therapies. Which are the number? Approximately 50% of treatment adherence is negative. And this is also for general practitioners, specialists and pharmacology. How is the cost for the states? Today it's very, very big because the poor adherence therapy costs European governments 155 billions of euros. And there's a lot, a lot of money that we can spend in some more different, best. Which are the barriers to adherence in treatment in family medicine? Because age, people normally are more old. Too many drugs to take. Two packs to similar and two similar names. Insufficient involvement in the therapeutics program and failure to comply with medical indications. Achieve the well-being autonomously suspended therapy. Which are our solution in proposing? To make the patient and this family understand, if they are elderly, the reasons why they should take the drug. Reduction of the number of tablets be taken. And the availability of drugs with packaging and blisters similar to therapeutic area. Decrease the number of tablets through and more with spread. Use the drugs in fixed association. All this simple action can let the people, more old people to be more able and more efficacy and persisting in this therapy. I close so. Thank you. Thank you very much, Angelo. And then let's go to the oncologist. And then we begin with Professor Cognetti, President of Altogether Against Cancer Foundation. Please Francesco. Thank you Vincenzo for inviting me to this important, crucial meeting. And in oncology, the non-adherence to treatment is growing because it's growing the rate of oral chemotherapy or biologicals which are administered to the patients. Oral can be administered as liquid, as pills, as a tablet and they were 15, 10 years ago only 5% of the total treatments. And now they are one-third of the total treatments. So, because of the development of biological treatments and hormonal treatments mainly for breast cancer and prostate cancer. The oral administration is very easy because it's taken at home. It can improve quality of life and produce less visits to the clinic. So, it's very easy and comfortable for the patients. There are very many, many biological treatments given by oral route to the patients for lung cancer. patients with target therapy for ALK fusion or GFR mutation or ROS1 mutation. Multi-targeted therapy in kidney cancer also in melanoma, in melanoma. And for breast, both hormonal treatment and new, innovative treatment are added to hormonal treatment like cyclin inhibitors. So, it's very important for the patients. There are many barriers which produce non-adherence to the treatment. Mainly in patients in bad general condition, but also socioeconomic factors can produce non-adherence to the treatment. Also, the patient related factors which are, they don't believe very much to the activity of oral administration versus intravenous administration. side effects which are not so well managed at home. And also, problems and factors related to the health system. Many patients are followed by, not by the oncologist at home. So, this is a real problem. We have some data on some drug or some tumors. We know that the adherence is low perhaps in patients who were given oral compounds for renal cancer or for small, for non-small cell lung cancer. But better is for breast cancer mainly when the patient is treated in the metastatic setting, but in the adjuvant setting. And I think that Stefania Gori will tell about a study which has been produced by Institute Gustave-Russi assessing the concentration of tamoxifen at one year in the blood. So, it was a very precise determination. And the results were that 36% of the patients were not adherent to the treatment. So, the solution of this problem can be a more large and diffuse collaboration between physicians, oncologists, nurses, pharmacists, and the patients who are submitted to anti-cancer treatment by oral route should be followed strictly. And we would prepare some sheets to join with them. And also, the American Society of Clinical Oncology launched an alarm on this data. So, we have to decide to join some important activity to ameliorate this situation. Thank you very much. And now we have Professor Gori, President of the Italian Association of Medical Oncology. Christopher. In italiano. Grazie a tutti, grazie dell'invito. Solo due brevi concetti. In Europa, perché qui siamo in Europa, abbiamo circa 4 milioni all'anno di nuove diagnosi di tumori maligni. ed è un numero che aumenterà con il passare degli anni perché si invecchierà anche in Europa la popolazione. Quindi il problema della non aderenza ai trattamenti antineoplastici è un problema importante, un problema che determina delle grosse influenze sui costi della sanità e anche sulle ospedalizzazioni, nonché sulla sopravvivenza dei nostri pazienti. In oncologia non abbiamo però una valutazione di quanto la non aderenza incide sull'aumento dei costi in sanità e quindi questo è uno dei problemi che anche come società scientifiche europee dobbiamo affrontare e l'altro problema è che abbiamo sempre sottovalutato il problema della non aderenza per quanto riguarda i farmaci antineoplastici. Quindi anche se l'abbiamo studiato negli anni l'abbiamo studiato male e quindi dobbiamo cercare di affrontarlo in maniera più precisa e più adeguata per quanto riguarda la sanità moderna. Grazie. E ora abbiamo il professor Nicolis, presidente della Fondazione Aion. Grazie, un breve pensiero solo per dire che l'età europea si allunga, l'Europa gode di buona salute ma allungandosi l'età crescono anche gli over 65 e noi sappiamo che le diagnosi di tumore oncologico, le diagnosi oncologiche sono per il 50% dopo i 70 anni. Quindi sarà sempre più destinata ad avere attenzione a questo tipo di popolazione. Ecco che allora è importante l'impegno, è stato ricordato dal professor Cognente e dalla professoressa Gori. Io mi permetto solo di aggiungere un passaggio che si riallaccia ad alcune delle conclusioni che ha fatto il professor Mirone. È stato chiesto ai pazienti e agli oncologi perché non aderiscono alla terapia, perché i pazienti non aderiscono. Hanno dato risposte simili, cioè hanno ricordato sia i pazienti che gli oncologi l'età avanzata, le comorbidità, hanno ricordato che c'è un problema di effetti collaterali, però su una cosa c'è stato un diverso comportamento. I medici non l'hanno detto, i pazienti l'hanno detto, è la comunicazione. Ecco che allora bisogna lavorare, questo è uno dei compiti di fondazione, ma anche benvenga questa opportunità, sempre di più nel favorire la miglior comunicazione degli oncologi verso i pazienti, verso i caregiver e soprattutto sin dall'inizio del trattamento va spiegato cos'è la terapia, quali sono gli effetti collaterali e che cosa accade se avvengono delle altre situazioni. Quindi tutta questa comunicazione va fortemente marcata. E poi dobbiamo anche ricordare che naturalmente ci sono anche un allargamento comunicativo, c'è una cronicizzazione della patologia oncologica e quindi va coinvolta in questo miglioramento comunicativo da parte degli oncologi, anche gli infermieri, anche i farmacisti, anche i medici di famiglia. E tutto questo anche sfruttando quel supporto tecnologico che oggi è possibile, come è stato già ricordato. Vi ringrazio. Grazie a professor Nicolis per questo messaggio molto, molto concreto. Ora, oh, I'm sorry, I canvain to English then. Osteoporosis, professor Palmini, Firmo Lab. Abbiamo altri 35 minuti. Due minuti. Buonasera a tutti, io sono qui a nome della professoressa Maria Luisa Brandi per parlarvi dell'importanza dell'aderenza alla terapia nel caso dell'osteoporosi. L'osteoporosi, come tutti voi ben saprete, è una patologia che colpisce in età adulta, in particolare le persone anziane, e ad oggi, siccome l'età della popolazione mondiale sta aumentandosi, ha anche un incremento di tale patologia. In relazione a questo, l'International Osteoporosis Foundation ha fatto per quanto riguarda l'Europa una stima che da qui al 2030 si avrà un aumento del 27% della spesa del sistema sanitario pubblico per far fronte a quelle che sono le necessità dei pazienti osteoporotici, dato che può essere facilmente traslato anche per tutti quelli che sono i paesi sviluppati per il mondo. L'osteoporosi è però una patologia che può essere facilmente trattata. Oltre ad avere uno stile di vita attivo e sano, si prevede anche la somministrazione di farmaci quali i bisfosfonati orali. Il trattamento con i bisfosfonati orali è un trattamento che richiede la perseveranza e l'impegno del paziente. Infatti il problema nasce proprio qui che il paziente magari inizia la terapia però a tre mesi abbandona perché è una terapia che comunque gli richiede di seguire determinate regole però da quelli che sono stati le analisi dell'abbandono a questa terapia è stato visto che il paziente non vede nessun effetto su se stesso e sul suo stile di vita e quindi non capisce perché deve continuare a seguire un trattamento comunque così rigido. In relazione a questo sono stati creati dei programmi quali Fraction Liaison Service oppure anche servizi di counseling da parte dei farmacisti per mantenere i pazienti aderenti proprio alla terapia dell'osteoporosi facendogli capire che comunque è importante fare questa terapia ma tutto questo ancora non basta. In relazione a questo problema per superarlo sono stati condotti un paio di studi dall'International Osteoporosis Foundation e dall'European Calcified Tissue Society che hanno dimostrato come invece coinvolgere il paziente a 360 gradi nella propria patologia lo porta ad aderire a una terapia anche seppur difficoltosa da portare avanti anche per un anno perché i bisfosfonati orali hanno effetti importanti se vengono fatti per un anno di terapia. In questo caso che cosa hanno fatto i medici? In pratica hanno richiamato i pazienti che avevano iniziato la terapia dopo tre mesi hanno richiesto delle analisi ematiche di quelli che sono i livelli dei marcatori del turnovero osseo e insieme al paziente hanno valutato che effettivamente il trattamento con i bisfosfonati orali portava un aumento di tale marcatori facendogli comprendere che tale aumento stava a significare che il tessuto osso si stava riparando quindi il paziente rendendosi conto che effettivamente questa terapia che stava facendo era una terapia che agiva su di lui anche se in maniera silenziosa però funzionava decideva di rimanere aderente alla terapia quindi in relazione a questo le linee verso cui stanno andando gli specialisti dell'osteoporosi sono proprio quelle di coinvolgere i pazienti a 360 gradi questo permetterà di migliorare l'outcome alla terapia osseoporotica e in conseguenza anche di abbattere i costi del sistema sanitario nazionale grazie a tutti Grazie per la partecipazione ora abbiamo un altro molto importante ruolo il farmacista e poi abbiamo come rappresentante dell'internazionale per Federpharma il dottor Tobia gli interventi sono programmati in ordine alfabetico per branca specialistica quindi farmacista e prima di pneumologo grazie, buonasera a tutti ho provato la traduzione per esprimere in lingua italiana ringrazio innanzitutto il presidente del Comitato Scientico Vincenzo Mirone e Roberto Messina per averci coinvolto in questa importante iniziativa che vede a mio avviso la farmacia al centro di un progetto che può portare dei risultati veramente importanti in termini di miglioramento dell'aderenza soprattutto in termini di risparmio per il servizio internazionale che è un servizio di alto livello in Italia ma che nel prossimo futuro tenuto conto dei budget sempre più limitati non potrà più essere sostenibile con l'attuale modello quindi la farmacia a mio avviso potrà svolgere un ruolo importante nel intercettare tutte quelle nel ruolo attivo non solo nell'intercettare pazienti non ancora aderenti alla terapia ma soprattutto anche nel ruolo di screening che la farmacia con i suoi 3 milioni di accessi giornalieri sul territorio nazionale con la sua capillarità sul territorio può svolgere gli studi hanno dimostrato che un ruolo attivo del farmacista nell'aderenza alla terapia porta risparmi importanti non solo per la qualità della cura che migliora per il paziente ma anche in termini di risparmi concreti per il servizio internazionale il progetto sviluppato in Italia attraverso l'Università di Kent il Medical Use Review appaggiato anche dalla Federazione degli Ordi dei farmacisti italiani ha dimostrato come l'aderenza possa migliorare attraverso un intervento attivo da parte del farmacista nella verifica della terapia stessa diversi sono i dati che possiamo portare ad esempio molti sono stati già esposti precedentemente nelle relazioni che mi hanno preceduto è un processo lungo un processo complesso un processo che comunque può portare a dei risultati importanti se e questa è la condizione a mio avviso fondamentale esisterà una vera e propria interazione una comunione di intenti all'interno del sistema tra il medico medicina generale il farmacista il paziente il peiato di libera scelta quindi è importante che questa attività venga svolta insieme venga svolta in collaborazione attraverso un'attività che prima deve partire dalla comunicazione per far comprendere ai nostri pazienti quello che è l'importanza del valore aggiunto che l'aderenza alla terapia può avere nel loro stato di salute per poi dare quelli che sono i risultati che dalle esperienze non solo italiane ma anche all'estero il progetto consiglio in Spagna piuttosto che alcuni interventi in Canada sulla ipertensione e sulle malattie cardiovascolari che hanno ampiamente dimostrato con i numeri quale può essere il risparmio importantissimo che è un sistema che funziona dal punto di vista l'aderenza alla terapia può portare al servizio sanitario nazionale non voglio dilungarmi oltre visto i tempi molto ristretti ringrazio ancora il professor Milone grazie per la vostra collaborazione grazie Imerac Dr. Tobia per l'aiuto farmacista grazie a tutti i due So, something to say about COPD, chronic obstructive airways disease, with a low adherence on page 40, my slides start, the mean adherence to inhal therapy in COPD is certainly less than 50%, and I, from a clinical experience, is really less than 30%, and we have mentioned some risk factors contributing to low adherence in these patients. We have to realize in pulmonology that inhaling medication in a correct way is really difficult. It's not swallowing a pill, it has to do with the technique, you have to inhale the medication through the diseased organ, so we have really difficulty, Professor Nadine and myself. So, it's not surprising that many patients make many mistakes, over 90% of patients make mistakes, and they make more than one mistake. One mistake may be smaller than the other ones, but they contribute to reduced delivery of the lung of the medication. Reduced adherence in COPD has many consequences, I've summarized them shortly, and also in our paper. One of the recent papers also indicates that if you inhale your medication poorly, that the pulmonologist will add another drug to be inhaled also, which increases the cost markedly. So, just summarizing what are the ways to the solution, in addition to what all you are talking about, is I think that we, as a caregiver, need more time to talk with the patient, to understand his knowledge and fears and cognitions and et cetera about medications and efficacy side effects. Also understanding the context, the social context of the patient. And another thing in pulmonology, I think, in inhaled medication is that we should stimulate, let's say, technical solutions to get a kind of feedback on your inhalation maneuver through a device, and to get some kind of corrections and kind of stimulation to improve your technique, which will increase drug delivery to the lung and will improve outcome. Thank you very much. And now we conclude the pneumology with Professor Nardini. I would like to drive your attention to page 48, because most of the thing important in respiratory medicine has already been told you by Professor De Kuitzin. In particular, I would like to draw your attention to the first slide in the page number 48, the last sentence of the superior slide, because official data coming from the Ministry of Health in Italy sets the adherence to treatment with inhaled drugs for respiratory conditions as low as 13%. Probably it is a little bit lower than the reality, but it is a very worrying statement. The other slide is about non-adherence. That is, that on your left you have the best situation, and on your right you have the worst situation. And you can see that the adherence for diabetes or disease on your left are good, or very good. But for asthma and COPD, which are the most important and frequent conditions in respiratory medicines, the adherence is very low. Finally, what is going on in Italy? We think that the problem is a technical one, as Professor De Kuitzin has already shown you. It is a problem of teaching to patients how to use the devices for inhalation. So we have started a task force to educate staff, mainly physicians, on the problem of adherence and solutions. And this project includes tutorial videos produced with the focus group of aged people. It is very important in our opinion, because of course the tutorial video has to be produced with the people intended to be reached by the video. On the front of the advocacy, Senior Italia has launched a project to improve adherence in aged people. The project includes a proposal of law which establishes a national day for adherence. And finally, our last meeting in Venice in October 2018, it was exhibited in our Congress, a new device, a sort of altered ACG, but for respiratory conditions, which can help the adherence to treatment. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Professor Nardini. And now we have the Vice President of the General Practitioner in France. And it's an order for me to have you. Please. Thank you for inviting me. I'm Dr. Soulari from France and I'm General Practitioner. As all my colleagues said, we have exactly the same problem in France. Most, we give medication to our patient, we add them, and low their adherence is. We just have, as a general practitioner, the coordination to do, to decrease, if it's possible, all the medication. We are not very important for the patient. Then it's difficult to measure. We just ask, and it's not a good solution. You've said that before. It's the same problem, how to be, how to go in the house, to look at the pharmacy box. But it's difficult. We have the same problems. And also in the technical devices now, which are very important in the life of our patient. It's important to see how they use it. Thank you. Thank you very much. This is the French situation. Now we go to psychiatry. Then Professor Bondi, Vice President of the Italian Society of Psychiatry. We have Heroes from theegtra. Thank you. chi Carrie. Thank you. Thank you. Beautiful. For us, the adherence, in psychiatry, we are identitals. With compliance ł本位ra, the possibility of adherence in the vaccine. We see tremendously related to the疾ność of the health. soprattutto quelli che hanno le patologie più gravi, non hanno consapevolezza di malattia e quindi di conseguenza riuscire a impostare un trattamento è uno dei nostri obiettivi a cui tendiamo e cerchiamo di raggiungere. Per questo abbiamo anche dei valori di non compliance che sono molto più alti rispetto agli altri. Nelle patologie più gravi arriviamo anche al 75% di non aderenza alla terapia dopo 18 mesi, che significa che l'80% delle nostre ricadute sono dovute a una non assunzione della terapia corretta e il 40% delle ospedalizzazioni sono anch'esse connesse alla non adesione o a non seguire un programma terapeutico. Altri effetti importanti sono anche gli effetti collaterali dei nostri farmaci. Ora abbiamo farmaci molto migliori ma in passato avevamo anche dei farmaci che avevano degli effetti collaterali importanti. La stigmatizzazione è un altro discorso molto importante per la psichiatria sia nei confronti della malattia ma anche e soprattutto nei confronti delle cure. La nostra difficoltà arriva al paziente e dice che vuole essere curato ma non vuole lo psicofarmaco. Quindi abbiamo da lottare e da impostarci proprio su questo aspetto qui. Per questo è estremamente importante per noi la relazione medico-paziente che è alla base del nostro lavoro e che è la nostra anche conquista. Cioè quanto più noi riusciamo a coinvolgere il paziente, a spiegargli il senso di quello che sta facendo, a motivarlo, a condividere con lui il percorso terapeutico, tanto più migliorerà la compliance. Un aiuto sta venendo anche da parte delle aziende farmaceutiche con formulazioni nuove con meno effetti collaterali. Ora abbiamo dei farmaci depo che hanno una durata di tre mesi o che possono essere fatti anche una volta al mese e questo sicuramente ci risolve molti problemi nel caso delle patologie più gravi. Concludo dicendo che la non aderenza è maggiore quando c'è una malattia psichiatrica nel senso che i nostri pazienti che soffrono di depressione, che soffrono di un disturbo psichiatrico generalmente è un paziente che aderisce poco e male anche agli altri cure di cui ha bisogno. Grazie. Grazie a tutti. Ora abbiamo la pediatrica e poi il professor Davino, vice president dell'Italian Federation of Pediatrics. Grazie. Volevo solo dire, rappresentando io gli anziani, che il 61% delle visite dei bambini in tutta Europa è fatta accompagnata dai nonni e non dai genitori. Ecco perché c'è questo affetto speciale sui nostri pediatri. Grazie. E io ringrazio proprio il dottor Messina. Parto innanzitutto grazie per l'invito al professor Mirone. Noi pediatri di famiglia siamo particolarmente contenti di far parte di questo advisory board perché io credo che il medico di assistenza primaria, e questa è una peculiarità tutta italiana, abbia almeno due punti proprio su cui agire. Il primo è questo che ha già anticipato il dottor Messina, è quello relativo proprio alla frequenza elevata in cui noi vediamo e visitiamo bambini proprio in compagnia dei loro genitori e molto spesso dei nonni. Per cui può essere un veicolo molto facile, quello di, attraverso proprio la presenza dei nonni, cercare di puntualizzare alcuni aspetti dell'aderenza terapeutica che è fondamentale. E un altro aspetto, diciamo, che è un po' uno dei due capisaldi forse della nostra attività, è il rapporto fiduciario. Quindi noi crediamo molto proprio che il rapporto con la famiglia e il rapporto quindi la famiglia allargata intesa proprio con la presenza anche dei nonni che spesso sono nei nostri studi sia un punto su cui lavorare per poter ampliare al massimo proprio le iniziative e le campagne di comunicazione sull'aderenza terapeutica. E concludo dicendo un'altra, mi riallaccio proprio a quanto detto poc'anzi in merito alle terapie inelatorie nei pazienti con problemi respiratori, ci sono anche degli aspetti relazionali, noi ci occupiamo anche dei bimbi che poi diventano nella terra di nessuno gli adolescenti fino a 16 anni e là per le malattie croniche, quelle respiratorie, penso anche per esempio al diabete, talvolta ci sono degli aspetti psicologici che non sono di poco conto proprio perché questi adolescenti hanno difficoltà proprio di tipo relazionale in compagnia dei loro coetanei a dover fare terapia insulinica piuttosto che terapia con un bronco dilatatore long acting e allora questo credo che sia un altro aspetto su cui dobbiamo lavorare molto per cercare proprio di modificare anche proprio questo approccio per poter ottenere un'aderenza terapeutica la più possibile vicino a quella ottimale. Grazie mille, grazie. Grazie per questo supporto importante dal punto di vista organizzativo. Now we go to the other face, rheumatology and the speaker is professor Di Franco, Italia Society of Rheumatology, please. Grazie per l'invitaio, un minuto, uno, due, per esprimere il problema della rheumatologia. La rheumatologia è una specialità non conosciuta, perché le persone pensano che i rheumatismi sono inevitabili. Abbiamo due gruppi di diseases, che sono l'inflammatrice e l'autoimmunica, e l'osteoarthritis, l'osteoarthritis. In Adderle sono l'osteoarthritis, ma anche l'inflammatrice e l'autoimmunica. La rheumatologia è interessata a tutti gli uomini, anche in Adderle. Il problema è che i pazienti con la rheumatologia contattano i pazienti per il dolore e per la disabilità. Ci sono le problemi croniche che sviluppano la disabilità, se non ci preoccupiamo di prendere il trattamento. Abbiamo utilizzato molti tipi di trattamenti, anti-inflammatori, non-steroidi e anti-inflammatori, steroidi, biologici, e trattamenti immunosuppressivi. E quindi il nostro problema per l'adderanza di pazienti è che quando il dolore è risultato, le pazienti non prendono il dolore, per esempio. Quindi un problema importante è l'educazione dei pazienti e della famiglia sulle conseguenze della rheumatologia, che è la disabilità. E' molto importante in Adderle, in particolare perché è un problema se il pazienti ha altre comorbidità e il pazienti può essere in una molto forte condizione. Ora, noi usiamo druggi, ma anche non solo druggi, ma anche non-pharmacologica, è una malattia fisica e è importante. E ho spiegato questo punto. Grazie mille. Ora, ora andiamo al ultimo contributo medico, il contributo di urinare in continenza. Dr. Zullo, grazie per questo invito. Volevo dire soltanto due concetti. Il primo è stato già espresso bene dal professor Mirone per quanto riguarda la compliance del farmaco. Compliance del farmaco che purtroppo, anche in Italia e soprattutto in Italia, non è solo legato all'adesione, all'aderenza del paziente, ma anche al costo del farmaco stesso. Secondo punto, io allargerei un pochino più la visione sull'aderenza dei pazienti. Perché? Perché l'aderenza dei pazienti è sicuramente legata al fatto che molte volte non stimoliamo sufficientemente, ma il problema grosso è l'organizzazione, che non è soltanto un problema italiano, ma è un problema europeo. Cioè, il paziente dovrebbe essere informato e l'informazione può essere fatta anche presso associazioni pazienti. E quindi chiedo poi a Roberto Messina in questo senso un contributo importante. E dall'altra parte, non è solo l'informazione, ma anche la formazione dei medici stessi. Il grosso problema dell'incontinenza urinaria è il territorio. Noi abbiamo degli ottimi ospedali a livello europeo, a livello nazionale, che funzionano bene, anche l'ultraspecializzazione funziona molto bene, quello che funziona poco bene è il territorio. E questo vale in tutte le nazioni europee. Molte volte il paziente è dimenticato, è relativizzato, e questo poi porta a una poca aderenza della terapia stessa. Con questo vi ringrazio. Una courtesy question. Abbiamo parlato tutti noi medici, non c'è nessuno che abbiamo saltato. Però io devo ringraziare una signora che ora sta all'in fondo, Luciana Valente, che è stata l'anima di questa riunione, ora si nasconde. Le facciamo un applauso, perché sta lavorando da tre mesi su questa cosa che sembra così semplice, ma è complicatissima da fare. L'acquario è una cosa stupenda, io la trovo, siamo tutti insieme. Allora, invece, ok, we finish in Italian, la parola passa al professor Enlì Emanuele Roman, che è vice president of CIAC. Eccoci qua. Innanzitutto chiedo Venia perché vi parlerò nella mia lingua, la lingua di Voltaire, la lingua di Montesquieu. perché mi è, soprattutto in questo consesso estremamente scientifico, mi è più congeniale alzarmi un po' più in alto, un po' più in filosofia, ahimè, e la mia lingua a questo serve di più. e ringrazio per la question. che non è. Qualche riflessione che mi appartiene, qualche riflessione che si bloccano in me bagate stiamo in ieri, ma di oggi ancora. D'abord, les zigzags de nostra vita dependono sempre di choix erronati, di ciò che noi crediamo essere, di decisioni diciamo cartesiani, car noi li crediamo teli, o noi forziamo e forziamo il destino verso ciò che ci sembrava razone, o pire, opportune. Non ne sape, noi entriamo, noi procediamo in un caos che abbiamo creato di tutte le piacere. Dopo bene dei zigzags, perduti in le ddal, prisonni di un labyrinthe infernal, le cœur meurtri, noi viviamo il giorno giorno le conseguenze di l'anomalia. Noi ne parveniamo più a vincere bene, e ci sono ciò che s'offre, i pazienti. Poi, quanto meno, noi ci ci attendiamo, noi non possiamo non perdere di un magnetismo centripeto che ci rimane irrisistibile a un punto di parto, un nuovo parto. Noi ne possiamo che rendere conto che il caos agisce secondo una logica deterministica, implacabile. Noi ne possiamo accéder solo a questo nuovo parto, con tutti gli douti, tutti gli incerti, tutti gli peori, tutti gli angosti che provano le avventure della vita, che noi non abbiamo chiesto, che si sono presenti come dei viraggi, che non bisogna tanto bene che male negociare. C'è ciò che alcuni appellano il destino, d'autres la providence, d'autres ancora il karma. E le cose possono allora riprendere l'ordine naturale al quale noi siamo destinati, del quale noi siamo erbiliati a causa di nostra incapacità di lire dei signi, o di nostra inattitudine a explica questo ordine delle cose che è di un'intelligenza infinita, che haberge in marge del chaos. Non ne pas respectare la terapia, c'è se soumettere a un ordine delle cose che ci siostrano di la vita, c'è compromettere il lavoro qu'accompliscono per noi, i nostri sognanti. Non, c'è un atto d'egoismo aveugle. E c'è per escapare a questo egoismo che è nato questa giornata. A nom di SIA, a nom di Signor Italia, a nom di tutti i sexagénaires europei che noi rappresentiamo, grazie. 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 Grazie a voi, grazie a la comunità scientifica che rappresenta di milioni di medicini europei, grazie a centenze di milioni di farmaciens che lavorano sul territorio, grazie a un milioni, non ne l'oubliamo, di milioni di milioni e di milioni di milioni, e, come io l'espero, molto caro Roberto, grazie a tutti i decideri politici che vogliono dare un cuore di mano. Quindi non possiamo non dare la parola a Roberto Messina, che poi è l'artefice, il demiurgo di questa riunione, quindi devi concludere con cose importanti. Allora, intanto grazie, ho ascoltato quasi tutti, magari davo una mano nell'organizzazione di questo evento, perché nel frattempo facciamo anche le interviste. Quello che adesso volevo svelarvi è che al di là delle richieste di ognuno di voi e delle rappresentazioni di ognuno di voi sul problema del fenomeno della non aderenza e soprattutto la non persistenza, abbiamo fatto fare degli studi a dei gruppi sociologi di tre nazioni italiani, francesi e spagnoli e abbiamo individuato le caratteristiche per poter migliorare l'aderenza. Se è vero che l'aderenza alla terapia si attesta al 50% è come dire 186,2 giornate annue, ovvero la metà di 365. Con questo impegno noi saremo in grado di aumentare almeno di 30 giorni l'assunzione dei farmaci. Andremo ad aumentare di un sesto. Come? In tutte le nazioni, faccio riferimento all'Italia perché è un attimo la delegazione più numerosa, ci saranno due calciatori di calcio della Serie A, in questo caso uno della Juventus e uno della Roma, che si faranno intervistare mentre loro chiameranno i loro genitori anziani o i loro nonni dicendogli io farò un gol per te ma tu prendi le medicine. Avremo due grandi attori anziani, in Italia abbiamo Lino Banfi e Claudio Lippi, che invece subiranno le telefonate dei loro nipotini, chiedendogli nonno per favore ti voglio bene. Avremo un accordo con i medici pediatri che metteremo in tutti gli studi medici pediatri dei leaflet affinché questi leaflet possono essere aiuta tuo nonno e ricordagli di prendere le medicine e dandogli un bacio al giorno per ogni pillola che non dimentica. Non solo, ci saranno dei cantanti che chiameranno i loro genitori per ricordarglielo. In ogni nazione ci sono già pronti gli accordi con i ministeri della pubblica istruzione, sia per la scuola del primo ciclo, del secondo e del terzo, dove saranno costruiti da voi advisory board dei leaflet ad hoc affinché possano scrivere dei temi su qual è la loro condizione dei loro genitori o delle rinonni, quante volte si scordano e come possono aiutarli. E premeremo le migliori scuole con i migliori lavori attraverso donazioni di aule informatizzate che sia in Italia che all'estero diciamo che lasciano un po' accadere. Sono piccoli doni e un grande dono che è quello dell'aumento della qualità e della qualità della vita. Sembra come dire un acquario. Io lo traduco in numeri essendo un economista. Voi rappresentate in questo momento 1.800.000 medici specialisti di tutta Europa. Rappresentate oltre 400.000 farmacie, oltre 3 milioni di infermieri. Al nome dei 112 milioni di over 65 che rappresenta la nostra federazione europea vi dico grazie e sono orgoglioso veramente degli uomini e delle donne che lavorano nei sistemi sanitari europei. Perché se la sanità va bene in Europa va bene grazie a voi, al vostro impegno e al vostro studio continuo. Grazie. Ora credo che da qui a qualche minuto gli staff ci porteranno al quinto piano dove entreremo in una sala politica, ci sederemo nei banchi dove vengono fatti i consigli e saremo accolti dalle più alte cariche della nostra Europa. Veramente grazie del lavoro che state facendo. Sarà con noi presente l'OMS, il direttore generale, sarà presente il mondo, il direttore generale di tutte le industrie farmaceutiche europee, saranno presenti gli infermieri europei e sarà presente anche la Commissione europea con il direttore generale per la sanità. Credo che più ad alto livello non potevamo essere ricevuti. Oggi abbiamo iniziato a lavorare insieme, prometto che lavoreremo molto per mail in un gruppo di lavoro e soprattutto cercheremo di rivederci a settembre. Non so ancora in quale nazione, ma lo decideremo insieme via mail per cominciare a fissare in ogni nazione la partenza delle campagne dove voi sarete i protagonisti e soprattutto li seguirete in ogni nazione per quegli otto stati bersaglio che abbiamo individuato che sono la Polonia, la Francia, la Germania, la Spagna, il Portogallo, la Romania, l'Italia e la Grecia. Mi pare di averli tutti e tutte. Sto andando braccio, ma credo che posso solo ringraziarvi nuovamente. Vi lasciamo il tempo per bisogni fisiologici nei vari bagni di questo piano. Vi diamo un po' di aria e poi scendiamo sotto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.